e amici sportivi buonasera benvenuti alla terza puntata di Bordocampo Serie D come al solito parliamo del campionato di Serie D e Girone G questa sera la facciamo eh andiamo con due grandissimi ospiti eh due ospiti che sicuramente sono contentissimi per la bella vittoria di eh domenica eh scorsa parliamo di Francesco Alessanti direttore sportivo del Fondi Calcio e di una vecchia conoscenza perché l'anno scorso lui ha militato anche nel Sora parliamo del centrocampista del Fondi Mario Barone quest'anno naturalmente in forza al Fondi allora eh Francesco prima di iniziare eh questa trasmissione sicuramente è stato un risultato importante per il Fondi tre partite due vittorie e una sconfitta cinque gol fatti due subiti sei punti in classifica è un bel un bel record no? Sì è chiaro che è normale una partita giocata bene soprattutto a livello di carattere perché siamo entrati con con il giusto piglio e siamo riusciti a portare a casa la vittoria è normale che davanti avevamo una squadra una squadra importante una squadra che è partita con con ambizioni con ambizioni giuste quindi eh eh è chiaro che portare a casa la vittoria è stato per noi un qualcosa di 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 molto importante è normale siamo contenti però eh bisogna adesso essere sereni e non stare con i piedi ben saldi a terra certo e andare avanti perché poi dopo il campionato è lungo quindi l'insidio stanno sempre dietro l'angolo no? È normale quindi sicuramente sì anche perché questo è un campionato molto lungo e un campionato secondo me dove si gioca molto al calcio visto che eh ci sono le laziali e le sarde domenica ha segnato anche Mario un bellissimo il quarto gol naturalmente un bel gol poi dopo lo andiamo a vedere insieme nel servizio sicuramente un gol importante che dà tantissima soddisfazione ma soprattutto anche per un centrocampista segnare sempre qualcosa di simpatico no? Certo mi fa sempre piacere no e come ha detto anche il direttore è stato tutta la partita è stata cioè stato un grande risultato diciamo abbiamo ottenuto comunque una buona vittoria contro una grande squadra siamo partiti a parte magari i primi minuti iniziali di gara dopo abbiamo siamo stati bravi nel tenerli nel pressarli nel tenere sempre diciamo il pallino del gioco noi in mano e alla fine siamo riusciti a portare a casa diciamo questo grande risultato che ci dà ancora più fiducia per il proseguo del campionato che come è iniziato con la sconfitta del palestrina però comunque squadra nuova tutti un gruppo nuovo magari ci stava anche da lì abbiamo avuto magari quella quel cambio di ruota che possiamo dire che quella è stata una partita se mi passi il discorso motoristico è stato un rodaggio che è stato fatto quella della prima partita allora abbiamo parlato del vittorio del fonti però adesso andiamo a vedere insieme tutti i risultati con la relativa classifica di questa terza giornata del campionato di serie di girone di Arzachena Terracina 1 a 4 Astrea Olbia 3 a 1 Cinzia Nuova Santa Maria delle Mole 0 a 4 Fondi Lupa Roma 4 a 1 Palestrina Maccarese Giada 3 a 1 Porto Torres Latte Dolce 3 a 0 San Cesario Anzio Lavigno 1 a 0 Selargius Isola Liri 1 a 1 Sora Budoni 0 a 0 uno sguardo velocissimo anche alla classifica una classifica che è ancora abbastanza corta sette punti per Palestrina e San Cesario sei punti per Terracina Fondi Olbia Astrea e poi cinque punti per Budoni ed Isola Liri quattro punti per Nuova Santa Maria delle Mole e Sora a tre punti adesso troviamo Lupa Roma Giada Maccarese Porto Torres a due punti il Selargius insieme a Latte Dolce ad un punto Anzio Lavigno ed Arzachena chiude il Cinzia con zero punti dicevo Francesco una classifica abbastanza corta sono soltanto tre giornate però già si inizia a vedere qualcosa no? Sì 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 chiaramente si inizia a vedere le squadre che comunque potranno dire la loro in questo campionato secondo il mio punto di vista è un campionato equilibrato equilibrato dove tutti possono fare fare bene e ogni domenica escono risultati che comunque non ci si aspetta no? Io credo che ci sono quelle tre quattro squadre che che possano che possono fare fare un campionato di di un certo di vertice allora io vi ricordo il nostro numero telefonico per i vostri sms per inviarci i vostri messaggi 331 12 45 625 su Twitter chiocciola teleuniverso tv oppure hashtag teleuniverso serie d adesso andiamo subito a vederci insieme la vittoria rotonda del fondi sulla Lupa Roma per 4 a 1 possono partire le immagini ruggito del fondi che supera 4 a 1 la blasonata Lupa Roma e si insedia nelle prime posizioni di classifica una gara sicuramente condizionata dall'espulsione del portiere di Loreti sul finale di primo tempo ma questo non scalfisce la prestazione di rosso blu apparsa in crescita Lupa Roma irriconoscibile soprattutto in trasferta al terzo ospiti vicini al gol Capodaglio serviva in profondità leccese il suo cross basso alla ricerca di Tagliarol trovava pronta all'anticipo la difesa del fondi al sedicesimo tiro a giro dal limite di Bonanno con il pallone che terminava di poco fuori al ventiduesimo la Lupa Roma protestava per un possibile rigore con il pallone che cadeva sul braccio di Pompei arbitro ed assistente lasciano proseguire due minuti dopo il vantaggio del fondi cross dalla sinistra di Bonanno a centro area regolanti anticipava di testa Pasqualoni il portiere di Loreti rimaneva a metà strada e il pallone si insaccava a mezzaltezza i locali trovavano il raddoppio al 42esimo percussione di Bonanno palla regolanti che entrava in area di Loreti lo atterrava rigore ed espulsione del portiere ospite vaccaro dagli 11 metri batteva il neo entrato di Filippo pur con un uomo in meno la Lupa Roma al tredicesimo provava a riaprire la gara cross basso di Cerrai sulla traiettoria interveniva Pompei la palla finiva all'indietro e senatore era chiamato ad un prodigioso intervento distinto al diciassettesimo veniva annullato un gol aprisco per fuorigioco ma due minuti dopo arrivava la terza rete erroraccio di Pasqualoni e sull'uscita di di Filippo lo trafiggeva con un tocco morbido al ventunesimo sussulto degli ospiti con un rigore trasformato da Morini la squadra di Cucciari però andava sistematicamente a battere contro il muro fondano alla mezz'ora quarto gol perfetta esecuzione balistica di Barone su punizione con la palla che toccava il palo alto e si insaccava le spalle del portiere la partita qui a parte la seconda espulsione per la Lupa Roma al terzo minuto di recupero a farne le spese Masciantonio che entrava in gioco falloso su Domenici e finiva espulso. Mario l'hai proprio cercato quell'angolino è stato veramente un bel gol complimenti grazie quando va perché chiaramente fa sempre piacere ho detto sia a livello personale sia per quanto riguarda poi soprattutto quando viene con una vittoria fa la soddisfazione doppia certo Francesco quali sono gli obiettivi di quest'anno del Fondi? Gli obiettivi sono fare bene domenica dopo domenica non ci poniamo nulla perché poi dopo rischi di fare del male no di farti del male quindi ripeto come ho detto prima ora bisogna stare con i piedi ben saldi a terra e pensare subito al Maccarese che comunque è una squadra ostica e sicuramente sarà difficile portare a casa una vittoria noi ci proveremo ci proveremo come abbiamo fatto con la Lupa Roma e siamo entrati come ho detto all'inizio con la giusta cattiveria la giusta concentrazione con la giusta aggressività chiaramente calcistica e secondo me è lì che va a vincere le partite noi credo che la prova importante l'abbiamo data quando abbiamo preso gol che un attimino si ci siamo abbassati e l'abbiamo anche sofferti no comunque loro sono andati a mettere quasi tutti gli attaccanti i giocatori offensivi che avevano però noi lì abbiamo tirato fuori carattere se abbiamo saputo soffrire e qui si vincono le partite no perché quando sai soffrire vinci le partite dopo chiaro punizione dal limite Mario ha qualità importanti fa gol e chiude la partita però credo che noi abbiamo saputo soffrire e credo che avremmo portato a casa la partita lo stesso. Senti Francesco hai qualcosa da recriminare nella campagna acquisti magari qualcosa che volevi portare a fondi non ci sei riuscito oppure dice mi è sfuggito questo giocatore? No 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 assolutamente no siamo riusciti perché non dico sono perché c'è anche soprattutto l'amministratore delegato Lanzillo siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare credo che abbiamo fatto una buona squadra e che sicuramente daremo battaglia perché noi abbiamo voglia sempre di dimostrare e di fare e di fare cose importanti poi dopo gli obiettivi uno non si ripone perché è bello giocarsi le partite domenica dopo domenica. Certo sicuramente fare il risultato e andare avanti perché come dicevi tu io sono d'accordissimo con te nel fatto che questo è un campionato veramente molto molto livellato non c'è una squadra che può ammazzare questo campionato quest'anno. No secondo me no secondo me no ogni domenica vengono fuori belle partite e questo è importante per il calcio in generale soprattutto in una categoria dove devono giocare quattro giovani, quattro under quindi ogni domenica ripeto vengono fuori partite belle da vedere e questo è importante per i giovani. Per quanto riguarda gli under voi avete anche il supporto da parte di una squadra di serie C del Frosinone che abbiamo mandato molti giovani no? Sì Frosinone, Parma perché noi facciamo tante cose con il Parma tante operazioni con il Parma. Da Frosinone abbiamo preso diversi giocatori e la forza nostra sono appunto secondo me i giovani che hanno grosse qualità e che soprattutto si mettono a disposizione dei più grandi perché se non crei gruppo è difficile vincere le partite e fare bene. Noi finora credo che questo ce l'abbiamo e ci fa piacere. Mario manca questa ciliegina sulla torta che è il pubblico poco pubblico a fondi. Poco però magari ci sta. Buono dici tu. Poi c'è comunque quel gruppo di tifosi che vanno ringraziati perché comunque sia ci seguono ovunque che sia in casa o fuori casa vengono e comunque ci sostengono magari non è sarebbe bello vederlo ancora più pieno lo stadio però comunque sia noi dobbiamo anche a loro che comunque ci seguono sempre. Ho detto sia in casa che fuori. Che fuori certo. Diamo uno sguardo un po' a 360 gradi Francesco a questo campionato. Oltre a questo bel fondi abbiamo anche altre belle realtà. Una di queste è il Terracina. Un'altra può essere questa sorprendente Isola Lilia ma non tanto sorprendente visto i giocatori che ha. E anche questo Sora ben costruito, nuovo quest'anno. Sì secondo me l'Isola Lilia è una squadra ostica, ostica soprattutto in casa. Poi ha un allenatore che comunque conosce bene la categoria e sa metterti in difficoltà. Poi per quanto riguarda il Sora secondo me ripeto anche il Sora è una buona squadra che pian piano verrà fuori. Verrà fuori perché ha dei giocatori validi. Parliamo di Scardala, Mucciarelli, Giannone in mezzo al campo, Sciba davanti, Taverna che secondo me è un buon giocatore un 93. E poi vabbè Terracina Terracina è una squadra che ha giocatori validi, ha giocatori importanti. Ripeto è un campionato livellato. Non riesco a dire non mi viene fuori una squadra. Posso dire San Cesario. San Cesario è una squadra conosco molto bene l'allenatore, è una squadra quadrata, è una squadra che gioca molto bene a calcio. Però ripeto ogni domenica saranno belle partite, si darà battaglia. Abbiamo parlato del Sora e soprattutto io stimo moltissimo il nuovo allenatore del Sora, Massimiliano Faris, una persona veramente che conosce bene questa categoria anche se non ha allenato moltissimo voglio dire però è un allenatore che cura tutti i particolari e forse questo è quel di più che ha al Sora quest'anno? Ma sì sicuramente sinceramente non lo conosco di persona però ho visto che a Viterbo ha fatto molto bene e la squadra gioca a calcio. Sì. È una squadra quadrata messa bene e ripeto alla lunga può dire la sua. Sora verrà fuori sicuramente. Allora a proposito del Sora andiamo a vedere questo 0 al 0 che è scaturito domenica al Tomei. Terza giornata disqualifica per mister Massimiliano Faris che domenica prossima, anzi sabato perché ci sarà l'anticipo a sabato contro la Lupa Roma alle ore 15 tornerà nuovamente in Pachina. Vediamo il servizio. Terza partita del campionato di serie D. La Sora giocava in casa qui al Tomei. Ancora 1 0 a 0. Una partita non molto bella. Le squadre nel primo tempo si sono studiate. Nel secondo tempo mister Faris ha corretto qualcosa e si è visto un buon Sora ma il risultato non è cambiato. È terminato 0 a 0. Ma andiamo a vedere com'è scaturito questo 0 a 0 qui al Tomei di Sora. Al decimo minuti sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Colpo di testa ed aria di Palazzo. La palla termina di poco a lato. Al dodicesimo pericolo per il Sora con questo tiro di Ibba. Calcio d'angolo per il Sora. Dalla bandierina capitano Rocco Giannone. Palla in aria. La difesa libera come può. Arriva sul palone Scipapa. Sbaglia in questa maniera. Al ventottesimo Mastino si presenta a tu per tu con Agostini ma sbaglia così. Al trentaduesimo fallo dal limite su Sciba. Calcio di punizione per il Sora. Sul pallone ancora una volta lo specialista Rocco Giannone però il portiere si salva in angolo. Nel secondo tempo dentro Nicola Talamo e Simone Mastromattei al posto di Lapegna e Taverna. Dobbiamo arrivare al venticinquesimo quando Mastromattei impegna per Rozzi che la mette appunto in angolo. Al tre minuti più tardi è Sciba a incornare ma sbaglia la mira e la palla termina fuori. Al trantesimo entra il nuovo arrivato nel Sora Daniele Sisalli ed esce Masi. Al quarantesimo per poco Palazzo non mette la palla nel salco con questo colpo di testa. Il risultato appunto termina sullo 0 a 0. Il Sora anticiperà sabato prossimo il prossimo incontro contro l'Arlupa Roma a Fiumicino alle ore 15. Bene saluto nel momento di studio. Naturalmente un Sora che domenica non è riuscito a vincere. Ricordiamo che il Sora sempre ha colmato quel punto meno uno in classifica e soprattutto adesso deve iniziare a macinare gioco per magari raggiungere la vetta della classifica. Torniamo ancora una volta a parlare di questo di questo Fondi. Un Fondi che vuole sicuramente quest'anno Francesco non ti vuole sbilanciare tanto ma io penso che sia la squadra un po' da battere perché un Fondi che ha una certa esperienza, fa una certa mole di gioco la dimostrata anche domenica scorsa ma soprattutto ha una bella esperienza alle spalle vuole sicuramente recitare un ruolo da protagonista in questo campionato. Secondo me. Sì ma questo lo dirà il campo, lo diranno le prestazioni. Noi sicuramente è chiaro come tutti entriamo ogni domenica per fare risultato e poi porta a casa la vittoria. Poi è normale che ripeto giovani di qualità, ragazzi giocatori di esperienza che comunque hanno fatto campionati importanti fanno un buon mix però ripeto noi non ci poniamo nessun nessun obiettivo se non quello di chiaramente mantenere la categoria e di fare ogni domenica prestazioni importanti come abbiamo fatto domenica per far divertire soprattutto il pubblico di Fondi e sottolineo quello che ha detto Mario prima, ringrazio i ragazzi della curva, gli old fans che comunque sono sempre dietro a noi e non ci lasciano mai e questo va sottolineato perché se lo meritano. Tu hai parlato prima di giovani importanti e sono veramente importanti i giovani in questa categoria perché ne devono giocare quattro e naturalmente ne hai bisogno almeno di dodici in rosa sicuramente perché voglio dire ce ne vogliono almeno due per ogni per ogni ruolo, non mi viene il termine per ogni ruolo e praticamente bisogna avere naturalmente questi giovani pronti e a volte magari se un giovane è molto bravo magari gioca sempre e c'è l'altro giovane che è in panchina e deve essere bravo l'allenatore a tenerlo sempre sulla corda magari per per farlo entrare per essere pronto per tenerlo pronto sì sì ma io non voglio far nomi però noi veramente perché magari poi mi dimentico qualcuno e ci rimangono giustamente male però noi abbiamo dei giovani importanti giovani di qualità giovani che hanno fatto settori giovanili professionisti e quindi sono pronti per un certo tipo di campionato addirittura qualcuno già già ha giocato in interregionale quindi secondo me l'importanza in questa categoria sono loro perché è chiaro che devi essere bravo andare a prendere anche i grandi quindi gli over giusti però gli under sono sono fondamentali. Ha affrontato questo problema nello spolatoio nella nella strada stampa del Tomei anche domenica scorsa Raffaele Cerboni allenatore del Budoni ha parlato prima della partita e poi ha parlato dell'importanza dei giovani in questa categoria andiamolo ad ascoltare penso che oggi abbiamo fatto la migliore prestazione delle cinque finale disputate tra le quali quattro fuori casa abbiamo giocato bene eravamo in emergenza avevamo altri due grandi fuori abbiamo giocato con sei under 92 e 91 abbiamo fatto la partita poi non lo so magari qualcuno la vede in modo diverso noi abbiamo fatto la partita il nostro nostro modo di fare calcio è quello lì di proporre sempre calcio venire a Sora cercare di non prendere gol con gli attaccanti che hanno una grande fisicità vuol dire dare la possibilità all'avversario di giocare venti metri più avanti e significa aumentare le possibilità di prendere gol noi questo non lo facciamo con nessuno ripeto pur essendo c'è in emergenza neanche oggi abbiamo fatto io penso che alla fine il risultato sia stato giusto è che se noi avessimo vinto non si poteva gridare allo scandalo il progetto della società è quello di dare spazio reale no come fanno in tanti che tutti lo raccontano poi vai a vedere c'è la formazione quattro giorni noi abbiamo sempre giocato con sei anni anche quando magari non avevamo non ci mancava faris non ci mancava cavioli noi partiamo dal presupposto dal primo giorno che questo adesso può sembrare qualcosa di strano che sto dicendo però noi io primo giorno ho detto a tutti i ragazzi che ne avevo praticamente 15 di ande ho detto questo per voi è nato come un divertimento e io mi diverto se ho il pallone se no diventa un problema se no diventa una continua sofferenza e calcio non non è quello che voi siete abituati a fare perché poi bisogna poi dopo entra in gara un'altra c'è un altro calcio perché poi dopo si cresce però il piacere di avere il pallone di proporre gioco di fare la partita ti dà convinzione ti dà consapevolezza e poi a volte farà anche bene non sempre ma a Francesco non so se sei d'accordo con la seconda parte della risposta che ci ha dato l'allenatore del Budoni cioè di avere giovani lui ne fa giocare anche sei a volte sì 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 assolutamente assolutamente se sono pronti è giusto che giochino certo se sono pronti è giusto che giochino perché fanno esperienza e e comunque ripeto se se dimostrano durante la settimana che poi la settimana l'importante la domenica lo specchio della settimana se se dimostrano durante la settimana di saperci stare è giusto sono d'accordissimo possono prendere anche il posto di un grande tranquillamente però io sono del parere che in questa categoria ci vuole il giusto mix tra grandi e diciamo tra virgolette piccoli ma io l'ho detto prima è chiaro che una squadra giovane è importante farla avere i giovani di qualità però è normale che poi dopo subentra l'esperienza quando magari il risultato in bilico è chiaro che serve sempre anche per loro il compagno più grande che che gli dà quel tipo di sicurezza e di serenità no noi abbiamo affrontato la prima giornata il palestrina a cui faccio i complimenti perché sta facendo almeno finora dei risultati importanti è una squadra molto giovane non so quanto possa possa tenere però dei giovani importanti di qualità ed è giusto che li facciano giocare. Mario ritornando al discorso di Sora tu l'anno scorso hai vestito la maglia del bianconera del Sora ecco che idea ti sei fatto quest'anno di questa squadra? Ma so pochissimo sì diciamo che so pochissimo conosco più che altro i giocatori per non magari non di persona però so che comunque si hanno una buona rosa hanno dei buoni giocatori so so quello per quanto riguarda poi quello che c'è intorno società conosco l'ambiente più che altro però società non non so cioè non conosco nessuno lo stesso mister so che è un buon allenatore però non lo conosco di persona è una situazione nuova so che è tutto nuovo fatto una buona squadra comunque ci sono buoni giocatori però non conosco sì è tutto nuovo ad iniziare naturalmente anche dalla proprietà dal presidente noi l'abbiamo ascoltato eh nel nella sala stampa domenica del Tomei lui ha parlato un po' del mercato e poi si è soffermato un po' sulla partita andiamo ad ascoltare Andrea Pecorelli un secondo che arriva Pecorelli qualche qualche problemino della regia intanto possiamo andare avanti mandiamo mandiamo fra qualche istante eh Andrea Pecorelli che naturalmente abbiamo fatto una domanda sul discorso del mercato e come ogni presidente dice la rosa va bene questa come la stessa domanda se la faccio a Francesco c'è io va bene così perché naturalmente non puoi andare oltre quando uno eh è chiamato a costruire una squadra è convinto di quello che fanno quindi eh si va avanti giustamente con le convinzioni eh delle delle scelte fatte io sono convinto che noi abbiamo una squadra importante e eh una buona squadra che possa dire la sua e ci può far divertire sia a noi che che i nostri tifosi eh è chiaro che eh è giusto essere convinti e io sono convintissimo dei nostri ragazzi bene e ti volevo chiedere un'altra cosa eh quest'anno c'è una grossa possibilità per la serie D quella di fare questo grande salto in C è un qualcosa di molto bello e soprattutto di di fare questo doppio salto no? Ma noi non non ci pensiamo nel senso che eh eh ora ripeto siamo che i piedi ben saldi a terra perché poi e dopo e ripeto come ho detto all'inizio è sempre difficile eh dopo recuperare una situazione no? Siccome che veniamo purtroppo da una da una retrocessione dell'anno scorso che nel calcio ci può stare ci può stare certo e noi quest'anno ripartiamo con una mentalità nuova e con una convinzione nuova eh come ha detto Mario giustamente la squadra eh è nuova non si conoscevano loro all'inizio tra di loro adesso ripeto è nato un buon gruppo secondo il mio punto di vista e adesso dobbiamo andare avanti e abbiamo fatto due grandi vittorie secondo me ripeto la prima non meritavamo assolutamente di perdere in casa col palestrina però succede ci può stare andiamo avanti abbiamo fatto il risultato anzi o domenica una grossa prestazione un risultato importante in casa adesso andiamo a Maccarese andiamo a dire la nostra. Secondo te questa riduzione che è stato fatto in Lega Pro naturalmente l'anno prossimo si inizierà è stata una cosa giusta o sbagliata? No secondo me è giusta è giusta perché eh prende anche molto più importanza e si vede più qualità secondo me sì è il campionato di interregionale può ritornare il semiprofessionismo eh di una volta e credo che sia giusto perché secondo me campionato di serie D è un campionato affascinante. Magari molti giocatori che giocano quest'anno in serie C con Lega Pro voglio dire hanno la possibilità di scendere in serie D e di arricchirla questo di arricchire questo campionato no? assolutamente sono convinto e sono d'accordo perché poi dopo ripeto il campionato interregionale è un campionato affascinante è un campionato eh che che ehm è importante per il giovane e gli dà esperienza è una grossa vetrina e e lo crea lo crea sia come uomo crea l'uomo e crea il giocatore. Può essere una bellissima finestra per quanto riguarda la serie D seconda per quanto riguarda la Lega Pro. Sì 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 sono d'accordo. Mi dicono da regia che è pronto Andrea Pecorelli presidente del solo andiamo ad ascoltare. Noi riteniamo come ritenavamo già la scorsa settimana di aver concluso eh la nostra campagna acquisti è ovvio e l'ha dimostrato l'arrivo di di Daniele Sisalli eh che siamo assolutamente attenti eh fino a quando le tempistiche di mercato ce lo consentono se ci saranno le possibilità di eh migliorare dove sia possibile noi abbiamo credo già dimostrato che siamo estremamente attenti e sensibili a tentare di migliorare qualcosa. Diciamo che non abbiamo niente da recriminare il Budoni ha fatto una gran bella partita è una squadra che come ha appena eh spiegato il suo mister ha tenuto una linea alta e quindi ci è messo in notevole difficoltà perché abbiamo eh avuto delle eh difficoltà evidenti nel cercare di produrre gioco e abbiamo tentato come spesso accade eh il la possibilità dei lanci lunghi che non hanno sortito nessun tipo di effetto. Eh non voglio cercare giustificazioni perché è un punto con una squadra importante ben messa in campo che ha fatto eh fino a qui eh dei buoni risultati eh noi siamo in continua crescita abbiamo se la vogliamo prendere come giustificazione fondamentalmente eh un problema terreno di gioco un problema campo che ci mette eh ulteriormente in difficoltà nel tentare di produrre qualche cosa però non vuole essere una giustificazione al pareggio noi ci prendiamo ci teniamo stretto perché allunga eh la striscia di risultati positivi e ci fa bene augurare per il futuro ho visto oggi molta più intensità vedo una crescita costante nei giocatori soprattutto nei ragazzi under che si stanno comportando molto bene eh ma anche nei grandi che comunque continuano eh giorno dopo giorno a dimostrare di essere eh ci continuano a dimostrare di aver fatto delle giuste scelte ehm andiamo avanti così insomma siamo per il momento moderatamente soddisfatti. Bene siamo giunti quasi al termine allora andiamo a vedere il prossimo turno quale sarà naturalmente la quarta giornata del girone di andata per quanto riguarda il girone eh G. Anzio Lavigno Palestrina, Budoni, Astrea, Isola Liri, Arzachena, Latte Dolce, Selargius, Lupa, Roma, Sora si giocherà alle ore quindici eh di sabato allo stadio Pietro Desideri di Fiumicino eh poi Maccarese già da fondi, nuova Santa Maria delle Mole, San Cesario, Olbia, Porto Torres si giocherà alle ore quattordici eh ad Olbia in diretta su eh Rai Sport uno e poi Terracina Cinzia. Incontri molto importanti domenica Francesco se prendiamo per esempio eh questo Maccarese Fondi che può dire qualcosa ma anche la stessa Terracina Cinzia, Isola Liri, Arzachena insomma sono degli incontri che ci già ci possono dire qualcosa per quanto riguarda la classifica no? Lupa Roma Sora. Sì anche Lupa Roma Sora certamente. Sicuramente la partita di cartello. Sì. Eh perché eh la lupa appunto viene dalla sconfitta in casa fuori casa appunto da noi. Il Sora deve come ho già detto prima secondo me viene fuori perché alla fine viene fuori e può essere una partita importante, una buona partita. E poi sì anche Olbia Porto Torres, Terracina Cinzia, Cinzia deve riscattarsi perché ancora non riesce a fare né un pareggio né una vittoria secondo me però una buona squadra con un buon allenatore. Certo. E Terracina abbiamo detto prima è una squadra ben attrezzata. Ripeto quello che ho detto prima il girone è equilibrato. Vengono fuori sempre buone cari. Mario secondo te tra le sarde qual è la squadra più forte? So che squadre ben organizzate c'è l'Olbia, anche il Selargius e per quello che so anche il Budoni per quanto siano giovani è una squadra ben messa in campo. Sì l'ho vista la domenica scorsa è una bella squadra, certo. Gioca molto bene, gioca palla a terra, passaggi di prima, insomma. No comunque sia su squadre abbastanza organizzate per quello che so. Certo. Noi siamo giunti alla conclusione di questa trasmissione, 30 minuti sono trascorsi veramente così velocemente. Io voglio ringraziare Francesco Alessandri, direttore sportivo del Fondi. Grazie e quando vuoi noi siamo a vostra disposizione. Naturalmente quando vuoi puoi tornare qui per parlare del tuo Fondi ma soprattutto anche per parlare di questo campionato che è molto interessante e un grazie anche a Mario Barone, ti auguro di rispolverare ancora una volta quell'angolino perché sei veramente molto bravo e l'hai dimostrato domenica con questo grande gol, anche se era il quarto gol ma è importante quanto il primo Francesco. È chiaro perché ci ha dato quella sicurezza e quella tranquillità di passare quegli ultimi dieci minuti di tranquillità anche dalla panchina. Grazie a tutti quanti voi che ci avete ascoltato, che ci avete visto anche questa sera. L'appuntamento torna a martedì prossimo sempre intorno alle 22.15 su Teleuniverso con un'altra puntata di Bordocampo Serie D. Buonasera.